Ciao a tutti ragazzi e ragazzi bentornati sul mio canale come prima cosa vi ricordo subito se vi fa piacere e se vi va ad iscrivervi al mio canale cliccando al tastino che trovate proprio sotto al mio video e attivare la campanella in questo modo sarete sempre aggiornati ogni volta che ci sarà una nuova uscita sul canale che vi aspetto anche su instagram trovate il link diretto sotto in info box è un social molto più attivo e quindi avremo modo di interagire e conoscerci più rispetto al solo canale ho anche un profilo per le piante quindi per chi ha la mia stessa passione vi aspetto anche lì e vi aspetto sull'altro social trovate il link diretto sotto in info box allora scusate la faccia sono lucida nell'ultimo video action me l'hanno scritto come se lucida faccia quel video era ad agosto ero uscita alle 3.30 con 40 gradi a fare la spesa sono tornata ho fatto subito il video non mi truccavo faceva il caldo e se moriva scusate tanto oggi è stessa cosa a Roma è tornato il caldo e sono uscita di casa alle 4.00-5.00 per andare a vedere il corso al lavoro e ho staccato poco fa alle 9.00 sono ai 10.00-7.00 sono appena tornata a casa e quindi sono un po' lucida comunque bando alle ciance è arrivato torno da lavoro e trovo il pacchetto a scegliere finalmente questa volta questo l'ho fatto con una parte anzi la maggior parte ho speso 123-24 euro 100 euro usati quelli di mia socia per farmi il regalo di compleanno e niente l'hanno diviso in tre parti la prima cosa è arrivata subito in due giorni perché ho mandato il 16 settembre il 18 settembre già era arrivato questi che erano dei leggings semplicissimi fatti stile ecopelle metto l'appo così vi dico i prezzi questo è pacco 1 allora tra l'altro mi hanno dovuto anche rimborsare delle cose perché come faccio a vederlo eccolo avevo preso delle cannocchiere che avevo pagato ma loro non hanno trovato erano terminate quindi mi hanno rimborsato io li ho messi nel saldo nel portfoglio diciamo gli scegline in modo che il prossimo ordine insomma mi riscalano comunque questi pantaloni qua stavano a 8 euro e 12 centesimi ho preso una M vi faccio vedere anche indossati da lei è molto meglio e questo appunto ci ha messo due giorni ad arrivare sono stati davvero velocissimi poi la cosa a cui tenevo più di tutti e tra l'altro ho usato anche oggi per farmi i capelli che li ho lavati è stata la spazzola mi sono comprata la spazzola sotto anche il consiglio della mia amica poi vi faccio vedere comunque mi metto a lato gli spacchettamenti anche sia dei pantaloni che di lei poi se vi interessa magari vi farò un video a parte su di lei lei l'ho pagata con gli sconti 73 euro e 37 centesimi e sarebbe la spazzola simil Dyson bellissima questa è la scatola al suo interno c'è il quanto il termoprotettivo il libriceno che spiega tutto anche con le immagini in tutte le lingue c'è anche l'italiano sulla spazzola e poi appunto c'è la spazzola 7 e 1 con il phon che si stacca e poi si possono cambiare i pezzi c'è il beccuccio il diffusore la spazzola piatta per asciugarli e farli lisci io oggi ho usato lei perché avendoli così corti se uso questa mi vengono con le punte all'insù mentre con loro viene perfetta e questi poi sono quelli per fare i ricci simili al Dyson che dovrebbero acchiappare i capelli da soli io li proverò quando cresceranno ovviamente perché adesso sono poco da acchiappare e quindi questa era la cosa che tenevo di più aveva la spedizione veloce ci avrà messo 4-5 giorni perché l'hanno spedita dalla Germania e quindi e quindi queste due sono le prime cose arrivate adesso vi faccio vedere quello invece che ho qui a parte le cannottierine quelle che non me le hanno afferite mi hanno rimbattato io ho scelto queste due cannottierine per dormire e vabbè le prenderò magari poi quando vado con il Dyson la prossima volta ecco qua il contenuto del pacchettino vado sempre random e a parte di questi sono gli achi che ho preso per io pensavo che erano per fare i gioielli ah sì sono per fare i gioielli per chi è in pratica io vi faccio vedere dall'immagine hanno l'apertura fatta in questo modo per ficcare il filo e quindi sono semplici da utilizzare quando si fanno i gioiellini e li ho pagati con i sconti 99 centesimi questo c'è ah qui mi sa che c'è una cosa di sciclemm che lo faccio di gioco poi ho preso due copri e ventilatori per metterli in cantina per bene uno è piccolo e un altro un po' più grande poi li vado a coprire sono la stessa fantasia e praticamente vi faccio vedere una foto uno è per il ventilatore piccolino e l'altro è per il ventilatore più lungo e lo userò per quello che avevamo la vendola come mi hanno scritto nel video action spengi la vendola e quindi ho presi per loro e l'ho pagato quello piccolo un euro e 48 e quello grande invece un euro e due euro e cinque vabbè senza che li apro non ti voglio farvi vedere sulla foto poi sull'altro so se li apro pure qua che c'è ah questa è sempre chiclème chiclème che vi faccio vedere alla fine questa che è carina che è una collanina sono due collane moltistrato con occhio che occhio malvagio non è occhio malvagio e c'è anche la manina di patima questa l'ho pagata un euro e cinquanta ve la faccio vedere da qua come viene molto carina molto carina sapete che sono fissa con questo poi questo è il chiclème sì ho messo da poco mentre sono mescoli poi abbiamo l'oro sono 100 pezzi tutti colorati degli occhi turchi occhi turchi da un millimetro sempre per fare i gioiellini carini carini volevo provare l'oro le gel nail wraps che ne ho trovati ho alcuni questi paia qui a casa ho togliato tutte le unghie corte perché non le sopportavo più mi affascinavano queste invece vanno proprio sotto la lampada che dicono che durano tantissimo quindi ho provato a prendere le ho pagate 2,82 e le ho prese in questa colorazione per questa volta quindi al più presto le provo magari sull'altro social quindi rimanete sintonizzati e adesso prima di passare a Cdm ho altre due cose da vestire la prima vediamo che cos'è è la maglia mi sa questa maglietta semplice nera pagata 3,52 euro centesimi mazza come è grossa ma che taglio ha preso una M enorme semplice nera con la manichina corta e scende morbida addosso semplice ok è morbida però mamma mia adesso mi fa pure dimagrita vabbè speriamo seppure se va a pomo se va a largo va bene quindi questa e poi ho un altro paio di pantaloni che questi perlomeno visti dalla modella mi piaciano tantissimo buttano buttano vabbè speriamo perché erano solo chiusi e questi sono sempre a me mi piacciono le ecopelle che ti do fa sono sempre una M e le altre mi stanno un po' lenti tra l'altro speriamo che questi sono un po' più stretti questi hanno la particolarità che vanno allacciati qui sulla capiglia ve li faccio vedere che carini così e questi li ho pagati 4 euro e 69 centesimi con gli sconti ma adesso sto visto stanno a 5 euro poi li trovo speriamo che vanno mamma mia che puzza strana poi li dà comunque allora poi adesso passiamo a Shiglam ho preso tre prodottini di me di carta da provare qua sicuramente è troppo mordi e ne prenderò qualche capro ok e facciamo qui allora cominciamo da questo piccolino 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 questi di Shiglam sono incartati in questo modo questa è la scatolina e ci servono le forbicette juice glazed ah questo mi sa che è un paretto fighissimo che volevo ormai ne lo provo subito se riesco a aprirlo ok si bello pagato 2 euro e 52 che bello che ha e sarebbe questo ombretto qua questo è il colore non so se da qua si apre la stichina mamma mia ragazze questo è bellissimo no vabbè pazzesco pazzesco ce n'è passato pochissimo madonna mia che spettacolo no non ho parole questi li prendo tutti guardate che roba cioè io perché faccio i swatch sempre queste cose strane ecco guardate qua meglio se faccio così pure si vede ancora luce madonna adoro adoro vi faccio vedere anche qua poi metto semmai anche la foto pazzesco bellissimo ho pagato 2,52 euro poi e perché sono così grossi questi pacchetti sono enormi vediamo questo ah perché mi sa che quello che le due braccia c'è pure il pennello quindi buono allora sì questo è waterproof è la la cosa per disegnare le sopracciglia io in questi giorni per esempio sto usando quello di dico ma qui dico la verità quando la sera soprattutto qua soprattutto verso la fine si sbava tutto quindi non dura proprio niente lo dico ho detto perché no adesso vabbè lavoro da sé ora ho visto quello di make up forever prima poi lo provo ma che carino che è questo è il kit quindi c'è il pennellino che ha da una parte quello per spazzolare madonna giuro vi devo far vedere che meraviglia che è questo ombretto cioè è pazzesco vabbè ha da una parte lo spazzolino e dall'altro che non è niente male anche lui tra l'altro che sto usando per disegnarmi le sopracciglia non so più la matita ma uso direttamente un pennello che ho preso da loro infatti vi devo assolutamente poi fare la recensione sui prodotti di Shane che sto amando e le disegno direttamente con la gel di Kiko e quella cioè io non ce l'ho i peli quindi devo con la matita dove sta fa proprio tutto il tratto mi vengono con un effetto quasi naturale cioè è una bomba pure col pennello e quindi proveremo su questo ma che è trasparente ok mi era preso un attimo un corpo vedevo così ma è trasparente perché no l'ho preso colorato possiamo fare con tutte queste cartine e senza unghie soprattutto ok il colore non sembra male facciamo così ok questo è il colore subocciato e io ho preso la colorazione boss brown eccola qua domani lo provo alla grande sulla sovraccella vi farò sapere tanto domani anche se mi seguite su instagram poi la sera magari farò sapere come sono sia durato insomma e nelle stories perché tanto anche domani ho il turno 17.21 e vediamo come si comporta lo proviamo metto pure l'ombretto domani sì 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 ok quindi questa è l'altra cosa l'ho pagato questo 2,90 euro e adesso l'ultimo pezzo che questo me ne volevo l'ora appunto per il fatto che mi luce ne ho sentito parlare benissimo lei lei e questa è la polvere fissante rinfrescante idro touch ho preso rosa baby e sarebbe quella che se tu ci facciano i video che se tu ti metti l'acqua l'acqua scivola praticamente quindi voglio ho grandi aspettative da questo prodotto dietro sono anche gli ingredienti il pack è bellissimo il pack dei prodotti è bellissimo wow ma che vuoi questa l'ho pagata 4,59 euro ma che cura nei dettagli proprio vediamo vediamo un po' se si apre così sì che bella che è che bella che il finish non sembra male per niente bella bella domani la provo e è leggermente rosata non ha nessun odore e anche questa era una cosa che volevo proprio provare vi ho detto il prezzo 4,95 euro bello sono contenta nel prossimo ordine prenderò altre cosine di make up mi voglio provare già le altre gel nails wraps intanto provo queste e vediamo se durano veramente quelle che ho provato io non andavano in lampada quindi già un po' si sono sbeccate in alcuni punti sinceramente ecco per esempio pure qua ma vabbè semmai st'altra settimana quando ho riposo le tolgo e provo quelle e farò il video sull'altro social quindi questo era il mio ordinoccio che ho fatto con una parte anzi la maggior parte dei soldi dei complessi che mi ha regalato mia focera la spazzola già vi dico che mi piace se vi interessa vi farò un video a parte e vi aspetto sugli altri social per mettere alla prova i prodotti make up di She Glam così li testerò su strada questi giorni che vado al lavoro quindi vi aspetto su tutti i social fatemi sapere cosa ne pensate di questo ordine se c'è qualcosa che vi interessa me lo chiedete vi giro il link tranquillamente sotto nell'info box io come al solito spero che il video vi sia piaciuto vi sia stato di compagnia se è così mettete tanti like iscrivetevi per non perdere i prossimi video attivate la campanellina e mi raccomando seguitemi su tutti gli altri social se vi fa piacere ovviamente mi scrivete un messaggio che sarò felice di ricambiare il segue mando un bacione grande e se vi faccio ci vediamo la prossima volta con gli spacchettamenti di Shein rimanete sintonizzati perché devo girare assolutamente un video dove vi parlo dei prodotti che sto mando di Shein mi raccomando un bacio ciao e al prossimo video ciao 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 ciao